Ciao a tutti, si sbloccherà la situazione con lei nei prossimi mesi? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Allora mescoliamo le carte. Tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali, la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, pensa a questa lei, della quale vuoi sapere se si sbloccherà se si sbloccherà la situazione nei prossimi mesi, concentrati, puoi anche stoppare il video, puoi farlo ripartire, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Se la situazione è stagnante, persona ambigua, difficile che si sblocchi. Chi ha scelto la carta 2? Sarà una perda di tempo, quindi lascia perdere. Chi ha scelto la carta 3? Si sbloccherà e ci saranno situazioni anche molto solide. Chi ha scelto la carta 4? Se ti comporterai da persona, da maschio alfa, diciamo, quindi forte e sicuro di sé, la situazione si sbloccherà. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.